E' un nuovo video di Antoine Manfri e io sono Manfri e oggi vi faremo gli auguri di Natale Prima ve li faccio io e poi ve li faccio Antonino Gli auguri di Natale scusate ma in ritardo perchè ci siamo presi delle pause Auguri di Buon Natale in ritardo Auguri di Capodanno Speriamo che non sia un anno di merda Cheat E niente ragazzi E ora io passo la linea ad Antonino Ciao